Tra l'altro quando esci di casa c'è un momento drammatico quando lei, l'imbruttita, dice a lui imbruttito, la moglie, viceversa i compagni e dice Amore, adesso arriva la donna delle pulizie, perché metti a posto casa? La donna a Milano è così, ma penso in tutta Italia, mettono a posto casa quando arriva la donna delle pulizie E se tu le chiedi, amore scusa, ma perché metti a posto casa? La risposta è, eh già, dopo chissà cosa pensa Che cazzo vuoi che pensa? Che vieni qui, ci hai fatto tutto te, prendo il grano, mi saluto e ci vediamo settimana prossima